Buongiorno, ecco il prodotto, semplici istruzioni, scopino per la pulizia, la scatola piuttosto semplice, niente di particolare e il prodotto vero e proprio. Importante è la presenza di una spina italiana, quindi non serve un adattatore, a differenza di molte altre. Il gancetto per poterla appendere. Nella parte bassa c'è il serbatoio che poi si può smontare, in questo modo si può pulire molto bene. Una volta collegata la spina si accende subito da sola, non ci sono interruttori, si può appendere o lasciare su una scrivania, su un tavolo, quando pranzate o cenate ad esempio in giardino, io l'ho presa proprio per questo. Allora la pulizia interna si fa con lo spazzolino, quindi una volta tolta la corrente ovviamente si spazzola tutto e cade tutto sul fondo e il fondo si apre. Se non fosse sufficiente si può aprire in due e pulire molto meglio dall'interno.